A commettere fallo è stato Cusenza, il suo primo fallo. Nel casino sia dall'altra parte il numero 13, il numero 15, Landi. La formazione di casa, Castelluccia, Jackson, Jackson la penetrazione, ottima azione. Direttore di gara e quindi rimessa per Cassino, ancora Jackson, lo scambio con Pipper, trova la trepe. Se finora Vettese ha deciso di non rischiarlo, Jackson la conclusione di Masciarelli da tre. La formazione di Masciarelli da tre. Trentesimo per la Virtus Roma, possesso Jackson, ancora lui è incontenibile. Giàinki, sì. Di, a 수 ikeristä che suona la incontyazione della terrificità, è vero, tutti sono i messi di ritouzi. Ho un po' di libero! Una ricaut子! Come andiamo. Interfarse suoi me sillosowie. Ma viene accettata dalla facertà. Tor hay note che si è bussola l чтоfero, Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti